Bella ragazzi, questa sera continua la serie Boyduke. Siete insieme a Zio Jesse, a Bosog, a Rosco e a Bo che sono io. Ciao ragazzi, questa sera la puntata si chiamerà Il Furto. Buona visione a tutti. Ciao zio, com'è? Tutto bene, tu violo? Tutto a posto, tutto a posto. Hai visto zio, ci hanno appena ridato la macchina di Desi, guarda com'è bianca. Bella varniciata, nuova. Ma bellissima, bellissima. Speriamo che gli piace. E anche la nostra zio, gli abbiamo fatto le modifiche al motore, adesso vale tantissimi soldi. L'unica cosa, zio, sai qual è? Speriamo solo che non gli venga le orecchie a Bosog, perché quello è capace che ci manda a Rosco ad arrestarci. Sai, sai com'è? Ce l'ha sempre con noi? Ma, comunque. E te zio, moonshine, tutto a posto? Io sì. Ma... No, ti ha rubato la macchina. Chi? No, Bosog! No, no, no! E... Zio, io prendo la macchina di Bosog, perché quella è troppo nuova. Rosco, ci sei? No, così. Eh, mi hanno rubato la macchina. No, zio, c'è Rosco, c'è Rosco! No, 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 io scappo da Rosco. Tu, cerca la macchina, speriamo che la troviamo. No, Bosog, no! Eccolo qui? No. Eccolo qui, no. Zio, mi stalle dietro, anche Rosco! Mamma mia! Non vedo più Bosog? No, come non vedi più Bosog? Eh, continua a cercarlo, zio. Io sto cercando di seminare Rosco, ma... La vedo dura. Quello viene anche sulle montagne, zio, guarda! No, ce l'ho proprio dietro, no? Mamma mia, adesso provo ad andare ancora di più sulle montagne, zio. Vediamo se lo inganno così. Io non lo trovo più, Bosog. No, niente, Rosco mi sta tagliando la strada, vabbè. Provo a scappare dal paese. Vediamo se Rosco è in grado di... Di beccarmi, ma non penso proprio. Adesso provo a tagliare la strada. No, di nuovo Rosco! No, no! Mi sta sempre dietro. Adesso provo a seminarlo andando a destra e a sinistra. Zio, vado in questa strada, di sicuro. Ok, mi raccomando. No, no, zio, zio, zio! C'ho Rosco proprio le calcagne, proprio dietro. No, 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 volevo fare trovaccia! Zio, 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 è un guaio. Non parte più la macchina, non parte più. S'è spenta la macchina di Bosog. Zio, Rosco mi ha arrestato. Guarda se puoi. Niente, è scappato. Stiamo scappando. Oh, zio. Quasi, quasi. Ce la potevamo quasi fare, zio. Oh, grazie, zio. Ce l'abbiamo fatta. Scendo, zio. Andiamo a cercare Bosog. Andiamo, andiamo. Rosco, dopo ti chiamerò. Perché? Bosog è lui che ha rubato la macchina, non noi. Dobbiamo cercare. No, ma dov'è il nostro generale lì? Dov'è il generale lì? La nostra macchinetta, zio. Ha rifatto il motore, ha rifatto tutto. Bosog è proprio un fetente. C'ha mani in pasto ovunque, quell'uomo. Mannaggia. Mi sembra che è andato un po' così carino a scenderlo. Si sarà nascosto, eh, chissà dove, zio. Rintracciamolo dalla radio, piuttosto. Eh, provo a vedere quello che ho intratto, perché io non lo vedo. Io lo rintraccio. Sento un segnale dalla radio. In questo, in questo posto per qua, zio. Cerchiamo con calma, vediamo se lo troviamo. È là, è là, zio. Bravo, bravo, bravo. Inseguiamolo. E qua, e qua, e qua, e qua. Si è bloccato, quasi. Chiudi lo zio. Perfetto. Boss, adesso non sfuggirai più. Sei tu che ci hai rubato la macchina. Rosco? Adesso lo chiamo anche dalla radio. Rosco, Rosco, vieni subito a prendere Bossog. Bossog, questa volta ti abbiamo beccato con le mani nella marmellata. Adesso ritorniamo alla nostra casa e vi dite anche voi. Vai, zio. Tu davanti, Rosco e Bossog a metà e io dietro. Così siamo sicuri che non ci rubano più nulla. Sì. Stai rubando in giù. Mamma mia, quanto ci abbiamo messo a trovarli. E poi volevano dare la colpa a noi, eh zio? Eh, mamma mia. Questo Bossog a mani in pasto ovunque. Ma adesso insieme a Rosco li faremo imparare la lezione. Ok. Ok. Ok, andiamo a casa. Mamma mia. Mamma mia, zio, abbiamo dovuto girare tutta la città. Rosco mi ha arrestato per furto di auto mentre era colpa di Bossog. Mamma mia. Mamma mia. Lo so di sicurezza delle mani ovunque. 좋아, siamo quasi a casa, zio. Andiamo a proteggere un poverò. Il generale lì si toglie Da qualsiasi cosa Zio Ero finito nel fosso Ma il generale lì col motore nuovo Non è una bomba di più Ragazzi La famiglia Bo E' di nuovo riuscita Anche se Bossog ha provato A metterci bastone tra le ruote Brindiamo Bravo zio Allora ragazzi Bossog Ciao a tutti Bo Che sono io Rosco Bella raga E zio Jesse Vi salutano E vi aspettiamo Alla prossima puntata Grazie amici Grazie a tutti Ciao 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 Ciao